Siamo rimasti concentrati, all'inizio stavamo subendo tantissimo, poi invece al secondo tempo ottima risposta da parte della squadra nostra, della mia squadra, e sono contento anche se all'ultimo secondo, anzi gli ultimi minuti abbiamo preso gol, non ci voleva però siamo contenti lo stesso, perché per come si era messa la partita inizialmente non sembrava quello sempre, sempre. Adesso ci stiamo allenando, stiamo facendo meglio, anche i giocatori stanno bene e speriamo davvero che quest'anno vada meglio.